Un'incredibile svolta nel mondo. Dei fan della celebre serie turca Daydreamer. Khan e Sanem sarebbero stati avvistati di nuovo insieme. Benvenuti su Gossip e Notizie, l'unico vero canale a offrire notizie vere e aggiornate. Cosa state aspettando? Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie di cuore. Iniziamo con un'osservazione chiave. Daydreamer è stata la serie tv che ha rapito il cuore del pubblico italiano e ha aperto le porte al fascino del mondo turco. Ma ciò che ha davvero catturato l'attenzione degli spettatori è stata la chimica travolgente tra i due protagonisti, Sanem e Khan. Sanem, la ragazza di quartiere che ha conquistato il mondo della pubblicità, e Khan Divit, il ribelle affascinante che ha guidato la sua trasformazione, hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la loro travolgente storia d'amore, costellata di emozionanti colpi di scena. Le star di questa serie, Demet Ozdemir e Khan Yaman, sono diventate autentiche icone per il pubblico italiano. La loro affinità sullo schermo era così palpabile che i fan non hanno mai smesso di sperare che qualcosa di speciale potesse accadere anche nella vita reale. Dopo la conclusione delle riprese di Daydreamer, Khan e Demet hanno mantenuto un solido legame di amicizia e stima reciproca. Ma le recenti apparizioni pubbliche, dei due insieme, hanno scatenato una frenesia tra i fan. Alessandro Rosica, l'investigatore social più accorto del web, ha rivelato informazioni che hanno fatto tremare i fan. Sebbene non ci siano ancora foto che confermino il loro riavvicinamento, sembra che Khan e Demet abbiano seguito una regola costante. Dove c'è uno, c'è anche l'altro. Alcuni persino ipotizzano che Demet potrebbe trasferirsi in Italia con Khan, dato il suo successo straordinario nel nostro paese. Ma cosa sta davvero accadendo tra questi due affascinanti attori? Sta nascendo un nuovo amore? O si tratta solo di un riavvicinamento legato a nuovi progetti professionali? Mentre Khan Yaman è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo italiano, i fan di Daydreamer si tengono con il fiato sospeso, sperando che ci sia una seconda stagione in arrivo. La domanda rimane, cosa riserva il futuro a Khan e Demet? Secondo voi cosa c'è dietro? Vorremmo sapere una vostra opinione nei commenti. Lasciate un bel mi piace e continuate a seguirci. A presto!